E rieccoci qua in un nuovo video sul canale YouTube da parte di Gio Nappone Mi raccomando lasciate subito un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram Trovate tutti i link in descrizione Oggi parliamo di Giorginio, questo giocatore che è uscito nell'SBC Showdown 94 Giocatore che comunque dalle stats sembra essere molto molto forte Vediamo che gli hanno aumentato molto la velocità perché nelle versioni precedenti aveva sempre delle velocità abbastanza basse Difesa, intercettazione 99, agilità 91, tiro, potenza tiro 98, tiro al volo 98, rigori 99 Infatti i rigori saranno tutti sui, controllo palla 99, passaggio corto, passaggio lungo 99 Sono delle stats veramente importanti Gli ho messo Ombra come stile intesa perché? Perché lettura difensiva 80 io l'ho voluta aumentare un pochettino Anche perché questo giocatore qua ce l'ho a 8 e non a 10, però a questo punto del gioco non è che mi interessi Così tanto aggressività 99 quindi dalle stats sembra essere molto buono Premier League, rendimento giocatore attacco difesa normale normale, non il top Piede preferito destro, mossa piede da 4, piede debole 4, vabbè Ma lasciamo stare le stats caratteristiche del giocatore regista Io l'ho sbloccato perché comunque sono un fan di sto giocatore Mi piace veramente tanto Ma non perdiamoci in chiacchiere Andiamolo a provarlo subito in game Allora cambiamo subito il modulo 4-4-2 Giorginio mi andrà a fare il centrocampista vicino a Jones Eccolo qua Giorgi Tunnel direzionale Crochetta Crochetta A Giorginio me la devi passare Di prima Non proprio precisissimo però comunque un pallone di prima alto Giorginio Eccolo qua Tunnel direzionale Ancora Giorginio Giorginio Tunnel direzionale Uuuu Uuuu Bella Giorginio Proviamo il tiro Ah si è messo quello davanti Autoblock Ovviamente non c'ha questa grande fisicità perché Però Sembra mantenere Che giocatorino Giorginio Guardate lì Intelligenza tattica Eccolo qua Giorginio Bello Questi due Danno spettacolo e si deve chiudere col pallone Non ci credo Non ci credo Ma che Che sto vedendo Passami a Giorginio Proviamo il tiro Nooo Eccolo qua Giorginio Finta di tiro Eh non è proprio Velocissimo Bella Giorginio Che si mette a giochi chiare E intanto perde pallone Oh questo è proprio lui Giorginio 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 Grandino da fuori E ci fa anche il balletto Il gollettino di Giorginio da fuori aria Fammi un passaggio lungo così Giusto per vedere Bravo GG Bravo Zaga Tournel direzionale Vabbè lì rischioso E come metto a fare Però guardate come è tornato Bravissimo Vedi come imposta Come imposta bene Bello Come se ne va Per ne Guardate qua Giorginio Pallonetto Incredibile Incredibile Goal Che assist di Giorginio di prima Ma cosa ha fatto Giorginio Di prima Pallonetto a volo di Messi Assist e gol per Giorginio Ma quest'assist è fantastico Cosa stiamo vedendo Scatenatissimo Giorginio Impazzisco per Giorginio Nuova stella di Giorapone Mamma mia finta Scatenatissimo Giorginio Scatenatissimo Giorginio Giorginio Ancora lui E' proprio Giorginio Mamma mia che passaggio di Giorginio Ancora Illumina per Messi Sto Giorginio Sto Giorginio E' veramente OP Quindi vediamo il gol Eccolo qua Questo è il gol da fuori aria Di Giorginio Bam Quindi Che dire Giorginio Mi ha sorpreso Dalle stats ovviamente Non tutto Viene confermato Da quello che c'è scritto Nelle stats 99-92 di agilità Non tutto viene confermato In game Ma questo giocatore Io l'ho sbloccato Perché sono un fan Mi piace tantissimo Infatti mi sono divertito Avete visto in questa partita Tantissimo a giocare con lui Si fa vedere molto A centrocampo A tratti Prende palla La passa La smista E' un regista Non è che potete Scartare tutta la squadra Il suo giocatore Però Raga A sto punto del gioco Io mi diverto Con sto Giorginio Detto questo Vi ringrazio per la visione Di questo video Lasciate like Seguitemi su Instagram E ci vedremo Prossimamente In live con la VL Con Giorginio Ciao ragazzi A giornapone è tutto Un bacione Ciao